Dopo i 18.000 tamponi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del periodo scolastico, tamponi offerti dal Comune di Pesaro agli studenti, al personale scolastico di scuole medie superiori, i tamponi tornano a fare capolino all'esterno delle strutture scolastiche. Siamo oggi al campus in una procedura nuova proposta dal Comune di Pesaro che per quattro mattine dalle 9 alle 13, oggi lunedì, domani martedì ma anche il 13 e il 14 agosto propone tamponi gratuiti a tutte le persone che vorranno sottoporsi a questo test. Questo perché a quattro giorni dall'introduzione del Green Pass obbligatorio in determinate strutture c'è questa possibilità in vista dell'evento delle Notte delle Candele e in vista anche del Ferragosto di sottoporsi al tampone e dunque avere il Green Pass necessario per quelli che sono gli eventi che richiedono la carta verde. Una grande partecipazione sopra ogni aspettativa, veramente stamattina c'erano tantissime persone in fila e tantissimi giovani, tanti ragazzi, tante ragazze accompagnate dai genitori. Quest'iniziativa non vuole limitare la partecipazione alle iniziative, anzi vuole far sì che si partecipi alle iniziative in modo diciamo sicuro e quindi per la salute di se stessi e per la salute degli altri. Centinaia di pesaresi dunque in fila alla prima delle quattro giornate di tamponi, più della metà dei quali davvero giovanissimi. Alcuni ritardatari hanno anche dovuto rimandare il test per le file protrattesi oltre l'orario delle 13 e per l'esaurimento dei moduli da compilare. Ad orchestrare la macchina organizzativa volontari di AIL, Onlus Gulliver e Protezione Civile. Non solo tamponi al campus ma anche vaccini in camper. L'unità mobile dell'Asur sarà infatti presente alla notte delle candele di Pesaro domani per vaccinare con Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson chi vorrà sottoporsi all'inoculazione anti-covid dalle ore 18 alle ore 22. Sì ringrazio l'Asur, l'area Vasta 1 per questa grande collaborazione che ha voluto dare all'iniziativa delle candele. Non solo i tamponi, domani mattina ricordo dalle 9 alle 13 ci sarà di nuovo la possibilità di effettuare i tamponi qui al campus scolastico nonché il 13 e il 14 agosto ma domani pomeriggio alla Pala di Pomodoro dalle 18 alle 22 ci sarà anche il camper vaccinale messo a disposizione dall'Asur, dall'area Vasta 1 e ringrazio appunto il distretto di Pesaro e l'area di prevenzione e tutti coloro che hanno voluto sostenere questo momento anche importante per la nostra città. Grazie a tutti!